sono pepino audace oggi vi andrò a dare la prepartita di tre partite c'è il napoli con la samp per la festa scudetto la juve a udine foggia con pescara popolo prima di parlarvi di queste tre partite volo portarvi magari anche la formula 1 perché insomma formula 1 è un qualcosa di eccezionale l'ho sempre eseguita continua finita adesso la gara la sto guardando ha vinto max verstappen il solito max versa perché continua a stradominare un pilota eccezionale continua a minare le gare ma anche una red bull eccezionale con perez rimontato da dall'ulticesimo posto arrivando terzo assurdo ma oggi ho visto anche una mercedes in forma con russell e emilton peccato per la ferrari continua a fare flop sia science sia leclerc peccato perché science era partito pure bene cerca ha voluto provarla anche a vincere ma non ha tenuto con le gomme quindi peccato adesso vi andrò a dare i prepartita di queste tre partite napoli sampdoria è la partita per la festa oggi ci sarà la festa napoli c'è il mio amico matteo fedele che è andato allo stadio a vedere il napoli tra l'altro poi farò vedere anche qualche video dello stadio sono andato ieri a vedere inter contro contro toro inter allo stadio è stata una bella partita peccato che il toro abbia perso però insomma è stata una partita emozionante poi c'è l'altra partita che udinese juve la juve deve provare a vincerla almeno per chiudere bene questo campionato poi sarà quel che sarà per la giustizia anche a livello europeo e poi ci sarebbe anche la partita tra pescara e foggia la semifinale foggia pescara sono 10.000 e passa biglietti venduti per vedere questa grandissima partita e quindi da seguire anche quella proverò a vedere il napoli alle 18 e 30 e proverò anche a vedere il foggia vediamo se riesco a vederle tutte in contemporanea sarà molto difficile quindi poi vi andrò anche a dare i post partita e dovrei dare poi le pargelle di bari contro su tirol quindi ci vediamo per i prossimi video un saluto da pepino audace e magari fatemi sapere se porterò anche la formula 1 con magari video più dedicati sulla formula 1 parlerò magari dei piloti di verstappen di leclerc fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite anche la formula 1 lasciate like e iscrivetevi al canale saluto da pepino audace